Mirko Gabellini è un designer speciale come i veicoli che realizza, una sorta di Leonardo del progetto tra Forlì dove abita e Modena dove c'è l'officina da cui escono i veicoli speciali, le regie mobili, le cliniche mobili, i camion per la squadra corse eccetera eccetera, quelli che si aprono ad ali di Gabbiano. Dici, parlaci delle ultime cose che avete fatto. Dunque il veicolo più particolare che abbiamo fatto ultimamente è una specie di rullottina mobile, piccolina con le ruote che si abbassano e diventa un piccolo ristorante mobile da portare nelle fiere, da essere flessibile in tutti gli spazi. Ecco, di portare la cucina praticamente un po' ovunque. È stata progettata, pensata e realizzata per un famoso ristoratore che adesso non è il caso di dire, la vedrete fra pochi mesi, finita. E poi un veicolo ad ali di Gabbiano, con le fiancate che si aprono ad ali di Gabbiano, per il team Scott nella MotoGP. Niente, sono le ultime due cose che abbiamo fatto. Poi per via Bizuno un altro veicolo sempre molto particolare che si alza a due piani e col secondo piano che scende, da un'idea lì di Mario Nanni e poi insomma ne dobbiamo fare anche altri però... Grazie. 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 Grazie.